La ZTL in città non serve, guardate come hanno fatto chiudere via Carossa, via Le San Marco, via Olivi, via Olivi, ragazzi, via Mestrina, sono andata una domenica mattina, tra i negozi sfitti e i negozi chiusi per il riposo, che già era solo che è estracomunitari, per carità non dico niente di estracomunitari, ma la mia città deve essere prima di tutto mia città. Non che io devo andare a Firenze, a Bologna, per avere una città. I volantini di protesta con cui la macelleria di Via Verdi ha tappezzato la sua vetrina accusano l'amministrazione comunale di non aver mosso un dito per contrastare la crisi del commercio in terraferma. La nostra città si lamentano i pochi commercianti rimasti nella zona e sempre più deserte, le solite vecchie soluzioni come ZTL e zone pedonali in quest'area non servono a niente. Non è la zona traffico limitato, perché è bello avere una zona dove c'è una piazza grande, dove possono correre i bambini, dove ci possa essere una chiesa per poter andare a messa e perché ritrovarci dopo nei bar la domenica. È bellissimo, ma noi non ce l'abbiamo. Quello che servirebbe veramente, sostengono i titolari dell'esercizio, sarebbe un piano delle licenze per regolare il commercio in maniera sensata. Ogni due minuti che se tre parrucchieri attaccati, tra cui quattro i sede cinesi, tre parrucchieri attaccati, tra cui quattro sono cinesi, che se è qualcosa che non va. Bersaglio della protesta, oltre a proliferare di esercizi gestiti da cinesi, sono i centri commerciali, spuntati come funghi negli ultimi anni, grazie alle autorizzazioni rilasciate dalle diverse amministrazioni. Caro sindaco, organizzati, alla domenica i centri commerciali devono pagare una penale a noi cittadini, a noi commercianti. Speravamo che col nuovo sindaco cambiasse qualcosa, attaccano, ma finora non vediamo nulla di diverso da prima. E pensare che ero anche consigliere della sua lista. Io ho piacere che lui faccia delle cose belle, ma per tutti noi cittadini, non per sempre a solita schiera, fate bene fratelli. Eh no, bisogna lavorare per la comunità, perché è la comunità che paga le tasse, è la comunità che dà sollievo alla sua città e alla nostra città. È la nostra comunità che può avere un ospedale dove chi oga adesso, non chi ci oga affatto e ori, l'abbiamo pagata noi cittadini di mestre.